Ha piaciuto il discorso dei padri? Molto, anche perché ha colto i punti essenziali sul lavoro che dobbiamo fare nei prossimi mesi e che di fatto è già anche in itinere perché la questione che è a comune a tutte le questioni che è a posto che è quello di un nuovo modello di sviluppo e di un'organizzazione delle istituzioni locali rispetto a quello che si è conosciuto fino ad oggi, con la consapevolezza che è chiaro che va in discussione la classe dirigente per le quali non dobbiamo fare nessuno sconto e entrare nelle questioni di merito. Quindi adesso comincia un nuovo corso anche per lei? Niente, io penso che il lavoro di oggi sia molto importante per le prossime scadenze elettorali e soprattutto anche per le questioni che già sono all'ordine del giorno del governo regionale. Penso che dalla Toscana nel momento in cui si sta formando il nuovo governo può avvenire un segnale forte di un contributo serio rispetto alle questioni nazionali e soprattutto anche rispetto alle esperienze del governo regionale. Faccio solo due esempi, la questione della difesa del suolo e la questione del lavoro dove su questo da tempo siamo impegnati, auspico che il nuovo governo dia delle risposte positive rispetto a quello che non è avvenuto fino ad oggi. grazie